Il Conservatorio Casella dell'Aquila in scena, in città e a Roma, con la seconda edizione di Casella, interprete del suo tempo. Tre giornate musicali e musicologiche, tre giorni di incontri, dibattiti e musica per fare il punto e aggiornare le ricerche sulla podriedrica figura di Alfredo Casella. Iniziative portate avanti dal Conservatorio nell'ambito del programma del decennale del sisma all'Aquila, città della memoria e della conoscenza. Un progetto corale dell'istituzione aquilana che nel 2018 ha celebrato i 50 anni dalla fondazione. Il Conservatorio partecipa alle commemorazioni del decennale con un intenso programma di attività, che vede anche la collaborazione con la prestigiosa compagine dell'ONCI, l'Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani. Noi abbiamo cercato di fare il nostro dovere sin dal primo momento, cercando di aiutare a ricostruire quello che è il tessuto culturale della città del post-sisma. Perché tutti sappiamo che non si tratta solo di ricostruire le case, ma si tratta di ricostruire una comunità. E per quello che era stato il nostro piccolo, non l'abbiamo sentito fin da allora come dovere proprio di continuare a essere vicino ai nostri studenti, anche in momenti difficili, che sono stati i primi momenti dove non avevamo una vera e propria sede fisica. E quindi poi siamo andati avanti con i nostri progetti. E devo dire, anche la stessa città dell'Aquila ci ha ripagati. Il nostro conservatorio non ha subito la benché minima flessione di popolazione studentesca, anzi grazie a un'accorta politica del Governo centrale, il fatto che non ci sono state le tasse, le contribuzioni per i primi anni, addirittura abbiamo visto un incremento della popolazione studentesca. Il 10 maggio a Roma, con il Pontificio Istituto di Musica Sacra a Roma, ci sarà un concerto sinfonico. Le iniziative si sono aperte invece con un convegno curato dalla professoressa Luisa Pryer, che ha visto la presenza di nove importanti esponenti della musicologia italiana, provenienti da prestigiosi sedi universitari e musicali. Sono state presentate relazioni inedite dedicate a vari aspetti della poliedrica personalità di Casella.